I temi della follia, vera o presunta, e della rottura delle rigide convenzioni cari a Pirandello sono al centro di capolavori come Enrico IV e sei personaggi in cerca d'autore che insieme a tante altre opere di valore universale lo portano, dopo la nomina ad Accademico d'Italia del 29, al Premio Nobel per la letteratura nel 34. Nel frattempo Pirandello è divenuto anche regista dei suoi lavori teatrali e soprattutto all'estero è acclamato come il nuovo genio del teatro internazionale.